10 chili di mariguana spediti in un pacco, un espediente grazie al quale pensavano di riuscire a farla franca azzerando il rischio di controlli durante il tragitto, ma così non è stato. A scoprire infatti quella che potrebbe essere la nuova frontiera dello spaccio sono stati i carabinieri di Arezzo. Nel primo pomeriggio di martedì infatti i militari hanno fermato in via alla Mendola un'auto di grossa cilindrata con a bordo due uomini, trentenni rumeni senza precedenti, che si sono mostrati sin da subito estremamente nervosi. Durante il controllo poi i due hanno anche tentato di distogliere l'attenzione degli uomini dell'arma da un pacco sigillato con le indicazioni di spedizione che riportavano come destinatario uno dei due. Il pacco si trovava dentro al bagagliaio. I carabinieri così insospettiti hanno aperto la confezione che conteneva ad un primo controllo solamente alcuni cuscini foderati ma da un'ispezione più approfondita al loro interno sono state trovate le buste sottovuoto contenenti marijuana. È così scattata anche la perquisizione domiciliare nelle abitazioni dei due dove sono stati rinvenuti un'ulteriore confezione di marijuana, alcune dosi di cocaina e materiale per il taglio delle sostanze. Complessivamente sono stati sequestrati 10 chili di stupefacenti, un commercio illecito di droga che avrebbe quindi potuto fruttare sulle piazze cittadine dello spaccio oltre 80.000 euro. I due sono stati arrestati e condotti su disposizione dell'autorità giudiziaria nel carcere cittadino di San Benedetto. Secondo gli inquirenti i due fermati sarebbero stati fornitori di droga di centinaia di assuntori a rettini visto l'ingente quantitativo di stupefacente trasportato.